Marino mi fa pena, è ai titoli di coda, è un uomo ormai solo, abbandonato dal suo partito innanzitutto, ma soprattutto dai cittadini di Roma, che appunto vivono in una situazione di una città totalmente allo sbando, una discarica a cielo aperto dove i problemi sono innumerevoli e riguardo a queste parole di odio che sinceramente avevamo quasi dimenticato, perché voglio riconoscere ad alcuni sindaci, penso a Beltrone e allo stesso Alemanno, che hanno cercato negli anni di ricostruire un rapporto tra le parti politiche diverso che superasse quegli anni di odio in cui purtroppo molte persone, molti ragazzi sono morti per strada nella contrapposizione politica che si era creata e quindi una persona che ritira fuori quegli slogan vetro comunisti degli anni 70 che hanno lasciato del sangue sulle nostre strade, sulle strade della capitale veramente è arrivato evidentemente ad un livello psicologico tale che non ha altro a cui appigliarsi. Voglio dire tra l'altro che Marino si deve dimettere intanto perché ha dimostrato la totale incapacità di gestire questa città, ma penso che Marino oggi non abbia più la possibilità di continuare ad amministrare, perché di fatto anche le dimissioni di Improta, le possibili dimissioni dell'assessore a bilancio che sono state annunciate, quindi dei due assessori più importanti di questa giunta, di fatto connotano chiaramente che ormai è, come dicevo prima, ai titoli di quota e noi ci auguriamo che sia titoli di quota. Ciò detto anche per rispondere alle dichiarazioni di Fassina, vorrei sommessamente ricordare che nel primo anno di governo Marino le due cooperative di Buzzi che hanno gestito il fenomeno immigrazione dalle quali nasce anche tutta l'indagine della magistratura che ovviamente deve continuare a fare il suo dovere e chi ha sbagliato deve pagare, ovviamente, rispetto a queste due cooperative nel primo anno di amministrazione Marino una ha aumentato del 67% gli affidamenti e una del 197%, allora mi chiedo, Marino poteva non sapere ovviamente queste cose, certo il fatto che il sindaco non sapesse queste cose vale come attenuante per lui così come per tante altre persone, allora al netto di mafia capitale dove ripeto la magistratura deve fare il suo compito, arrivare alla fine fatte le dovute verifiche, chi ha sbagliato, chi è responsabile deve pagare, mi permetto di dire senza urlarlo che all'interno di questa ignobile pagina della storia amministrativa della capitale d'Italia, il PD oggi è l'ultimo che si può permettere di dare lezioni di moralità, il penultimo come minimo, rispetto al coinvolgimento numerico fino poi ovviamente all'accertamento delle responsabilità, perché io sono una di quelle che dice che finché non si è accertata la responsabilità, diciamo più che altro che l'ultima pagina arriva dopo tante pagine che erano prima. Voglio dire, non è dal PD che io mi aspetto lezioni di morale, se vado a guardare quante sono le persone effettivamente coinvolte oggi arrestate in attesa di processo e quindi verificando ovviamente fino all'ultimo la responsabilità almeno. Detto questo, mi perdoni e poi termino, detto questo, oggi abbiamo poi modo di tornare sul da fatto, ma lì non si deve dimettere, perché è incapace non solo politicamente ma anche da un punto amministrativo di governare la capitale d'Italia.